Il sindaco non è solo un tifoso, è uno che segue lo sport, è anche un tifoso della buona architettura e quindi non è la prima volta che non è ancora un problema, è che si è condigato. Abbiamo visto con che forza, con che emozione, con che ligenza ha scritto questo progetto, suggerisco oltre ai tecni e aiutizzati intensità e complessa, che sono il futuro sia per parecchi e diversi, quindi il principio dell'ora, insomma, vi sarebbe chiaro questo, spero che gli ingegneri non si promettano troppi controverti a quella struttura che adesso appare così e si desidera poi per contrastare il terremoto sicuramente avrà più profondi in più, però insomma si tratta più quando questo ha come distante apprezzo verso nuove tecnologie, verso nuove soluzioni dell'architettura e questo non può essere un fatto di confronto, perché è un terremoto sicuramente.